Eccoci qui di nuovo insieme in campo le squadre. Antonio che partita ti aspetti questa sera tra Inter e Napoli? Bisogna vedere un po' l'emotività dell'Inter perché io concordo col fatto che comunque è una grande delusione non solo per l'Inter ma proprio per il calcio italiano perché l'Inter rappresentava il meglio del nostro calcio ed è uscita contro la quarta spagnola. Questo fa dispiacere perché secondo il mio avviso ha sbagliato la partita, forse la peggiore della dell'anno e l'ha pagata. Intanto stavo leggendo un po' le dichiarazioni anche di Marotta prima della partita, in particolare per quanto riguarda il rinnovo di Lautaro, dice per Lautaro prima della fine del campionato arriveremo a una conclusione, adesso ci siamo dedicati a impegni diversi per questo abbiamo rallentato ma il rapporto con l'agente è splendido non può esserci altra conclusione che quella del rinnovo quindi insomma credo che anche in casa Inter si respiri. Il progetto di Lautaro, sai cosa ho notato Bonfi? Sì. Nel tunnel no? La familiarità di Lautaro ormai con gli arbitri abbracci, baci, si parlano nell'orecchio questa qui cattiva informazione mai vista, se lo faceva uno della Juve mamma mia Beh ha fatto la festa da Dio a Rocchi con lo spumante e lo schiuma dopo una roba del genere mi sembra esagerato Dio Tommer con una presa sicura ha cross un po' troppo sul portiere quindi l'Inter che prova però a ripartire veloce Ma scusami, scusami Borrell, stasera San Siro per festeggiare l'eliminazione degli ottavi c'è l'esaurito? C'è l'esaurito? Sì, 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 veramente Ma quest'anno è sempre così quest'anno l'unica volta La grande, la grande Allora l'unico settore che bisogna vedere quest'anno No ma è vero, in tutte le partite dell'Inter l'unico settore che bisogna ogni volta vedere se è soldato o non è il settore ospiti perché gli altri settori sono sempre pieni in tutte le partite c'è 73 mila di media C'è solo un pezzettino del terzo rosso ancora disponibile per Inter-Empoli del lunedì di Pasqua Vedi tu? Pasqua È una cosa molto bella che le due squadre di Milano facciano quasi sempre Il Milano è lì, il Milano è 72 mila più o meno Il tutto esaurito di tutte le partite vuol dire che è tornata una passione forte giustamente il caso dell'Inter è anche abbastanza fisiologico stai vincendo lo Scudetto Ma però è da dire che da otto anni che riempiono lo stadio i tifosi dell'Inter Ho visto un po' di buchi a Torino oggi tra gli spalti e Marcello invece Anche di fischio Non doveva andare nessuno Poi parleremo anche di Juve perché ragazzi quello che ha combinato oggi Max Allegri merita di essere sottolineato e rimarcato però poi dalle 23 alle 24 a partita finita Noi non dobbiamo capire, è vero Francesco? Dobbiamo solo fare domande ma non dobbiamo capire Noi dobbiamo solo fare domande Non dobbiamo capire il calcio, non è per noi Voi potete fare tutte le domande che vogliono Io non sono come voi No, 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 facevamo il verso a quello che ha detto Allegri No, quello che ha detto Allegri, Marcello non quello che ha detto tu, quello che ha detto Allegri Marcello è il sangue del cronista, è sempre stato critico quando doveva esserlo Ho capito, mi ha detto che qua non parliamo dell'allenatore No, di Marcello io sto parlando Sì, ho capito Che poi spesso volentieri Vabbè, diciamo che nelle sale stampa ci siano delle curve mascherate Quello è un altro tipo di discorso Ma lì non era nessuna curva Ma quella è la professionalità dell'uno dell'altro Quello ci mancherebbe altro Lì era una domanda però in studio legittima No, 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 poi parli di professionista di lungo corso Poi vi raccontiamo esattamente tutto quello che è successo nel post partita Particolarmente caldo e acceso Il Napoli è partito molto più sesso Il Napoli pressa alto e l'Inter non butta via la palla Vuole partire dal basso con un Darmian che Pericoloso però fare quella robina lì Ma l'Inter lo fa sempre, caro Gianni Con 13 gol subiti in 29 giornate 28-29 adesso Questa è la 29 giornate Quindi una media ottima No, ma le numeri travolgenti è l'Inter Numeri travolgenti con 18 clean sheet In Europa meno Sono 10 su 10 in Serie A nel 2024 Sì, 10 vittorie E diciamo che ci sono due Inter che hanno fatto meglio 11 quella di Conte all'inizio del girone di ritorno Quindi potreste andare a guagliare stasera E poi c'è quella di Mancini Che è il record assoluto di 17 consecutive nel 2006-7 Inter con Di Marco Cedarmian tutto solo dall'altra parte Vediamo se lo vede Serve al centro Michiter Respinta ancora Turam Al centro per Darmian di testa La parata di Meret Ma c'è ancora Lautaro Ancora parata di Meret Ancora Barella alto Triplo tentativo dell'Inter peccato Perché ancora una volta Barella Si arrabbia con un compagno Ma non riesce a tenerla bassa questa palla Prima Darmian che forse di testa Poteva mirare più sul primo palo E invece in tuffo Riesce a indirizzarla in diagonale Dove era Meret Poi però il secondo tentativo è di Lautaro Adesso ce lo stanno facendo rivedere Allora Darmian Meret respinge Lautaro botta al volo Che prende proprio Meret E poi spara le stelle Barella è il terzo tentativo Bella parata di Meret Soprattutto la seconda La seconda si distinto Con Juan Jesús Che si è buttato alla disperata Ma l'ha presa ancora Meret Dietro di lui Bravo qua Meret Forse Darmian poteva cercare Un po' più il primo palo in tuffo Anche se non è facile Di testa in tuffo Non è facile mentre arrivava Sul secondo palo Ancora Inter Attenzione il cross La parata di Meret Cross da sinistra È una bella partita Sembra di vedere quasi il calcio inglese Sì sì è vero Poi magari perde 3-0 E per carità Però dopo un quarto d'ora Mi sembra che l'Inter del campionato Sia questa Cioè non ha risentito al momento Dell'eliminazione Ho visto la solita Inter Per il momento Sì sì Ma l'ha detto Antonio Diciamo che anche il Napoli Sta dimostrando stasera Di essere una squadra Cioè in Italia siete più forti C'è poco da fare In Italia c'è un divario netto Tra voi e gli altri Questo è tacito Il problema è che anche voi Quando vi affacciate fuori Non siete quelli che pensate Di essere in Italia Quello che voi dicevate degli altri Siete anche voi Ma è normale Marcello Il campionato di Serie A Non è il migliore del mondo C'è la Premier C'è una Liga Che a livello di vertice Non è neanche il peggiore È in crescita Con l'Atletico Non è stata La migliore Inter E se non sei la migliore Inter Io sono d'accordo con Antonio C'è la delusione Perché troppi errori C'è il Pavar sull'1-1 Non è una scusante questa No non è una scusante Quello che è successo Attenzione Michitta Rian per l'Otaro Deviazione Parata di Mered Scusami tu ti sei preso Scusami Michele Tu in campionato ti sei preso Un vantaggio tale Che tu quella partita lì Te la potevi preparare Veramente molto bene Eh ma su quello sono d'accordo Tu l'hai preparata male L'hai preparata male E' stata un ottavo di finale Pieno zeppo di errori Perché io ti aggiungo Un'altra cosa Molta dell'eliminazione Dell'Inter È figlia dell'Anda Arnautovic Perché ci siamo all'andata Poteva tranquillamente Finire 2-0 Ma lo sai che in Europa Non puoi sbagliare una partita Se hai un'occasione Devi farla E poi dopo di che È vero che in Italia Forse l'Inter È la scuola più forte Però c'è stata anche Non sa Riccardo Perché c'è Traore per Quarascheli Adesso punta Darmian Quarascheli Siamo al limite dell'aria Con Oliver e Quarascheli Però l'Inter adesso è dietro La linea della palla Ci prova Traore Da sinistra il cross Arriva Cerbi spazza via E quindi palla in fallo laterale Da dire che Adesso Sommer non ha toccato una palla Cioè adesso Sì sì no Ma io Vabbè Il dominio è dell'Inter 8-0 La partita la sta facendo l'Inter Però L'Inter non ha Quell'incisività Quel brio A cui ci eravamo abituati In campionato Sarà come dirà Michele Saranno stanchi Non lo so Però di fatto Noi eravamo abituati A un'altra Inter Anche se in campo Sta dominando l'Inter Ma forse non hanno Forse non hanno Neanche quelle motivazioni feroci Perché Sono fuori dall'Europa Sanno che hanno il campionato Da giocarsi Però è anche vero Che ultimamente Non è più ammazzate Le partite Come prima di Natale Lo so Però sai Non è facile Trovare quella concentrazione Quella determinazione Perché oggi Attenzione ora proprio All'Autaro Michiterian Michiterian Che subisce fallo Ma prosegue l'azione Per l'Autaro Un po' isolato Sì poi forse L'arbitro andrà A intervenire Sul giocatore del Napoli Ma intanto C'è il vantaggio Con Barella E Cialanoglu Per Michiterian Che si è alzato La dà bastoni A sinistra Il cross E buono Darmian Eccolo lì Dell'Inter Si è spinto tutto qua Che si porta in vantaggio Salta però l'immagine Quindi La devo andare a recuperare Velocemente Andiamo a lavorare Gol dell'Inter Che si porta in vantaggio Credo ci sia stato Un tocco Non lo so Di Turam La voglio La voglio rivedere Ma sicuramente Darmian È stato molto bravo A inserirsi A segnare Il gol del vantaggio Bella azione Ancora da sinistra Sull'asse di Marco Bastoni Poi il cross Di Bastoni E Darmian Dall'esterno Va a tagliare In una classica azione Dell'Inter E tira in porta Non so se mi potete Confermare Che sia tutto ok Gol di Darmian Dal dischetto del rigore Praticamente Di sinistro Vabbè E voi ce l'avete lì davanti Se volete alzare E darvela vedere Ce l'avete lì Un cross Dalla destra E Darmian Al secondo gol I rigori in movimento Se voi fate i rigori in movimento Passavate il turno A Madrid Invece i rigori Dal dischetto Li portano male Questa battuta Quanto deve durare ancora? Tre anni? Allora Adesso rivedo l'azione Tutta Sommer Fa passare il pallone L'abbiamo detto Lautaro per Mkhitaryan Poi Mkhitaryan Che allarga a destra Per Lautaro Eccola qua Bastoni Poi alla fine Insomma al centro C'è forse una deviazione Sul tiro di Di Darmian Vediamo Forse Olivera La torna Forse è leggermente Sporcata la traiettoria La deviazione c'è Ma Darmian è stato bravo Però molto bello Perché viaggia da destra A sinistra Fino a che la palla Arriva a Bastoni Che crossa al centro E c'è la stoccata Di Darmian Che porta in vantaggio L'Inter Proprio al 45esimo minuto Cade il castello del Napoli Che aveva retto bene A parte un paio Di occasioni importanti Ma insomma L'Inter In questo caso È riuscito a trovare Il gol del vantaggio Credo Meritato Direi meritato Non è legittimo Legittimo Avevamo visto Proprio prima del gol L'8 tiri a 3 Non era stata La solità Inter Però aveva dominato Quindi il vantaggio è legittimo Le occasioni Le aveva create solo l'Inter Quindi giusto Attenzione Ora il Napoli Dall'altra parte C'è la Noglu Praticamente salva un gol Dicevo ancora L'ennesimo assist Di Bastoni Che è un centrocampista Un centrocampista aggiunto Così come Darmian È molto bravo L'ultimo intervento decisivo C'è Darmian Che è stato molto bravo Ancora una volta A inserirsi Ora calcio d'angolo Per il Napoli Barella Che prova a spazzare Ma la palla resta lì Per Paraschelia Che carica il destro Colpisce un suo compagno In aria di rigore Può ripartire l'Inter Con Barella Un minuto di recupero Barella per Di Marco Troppo corto Per favore Non mi parlate sopra Quando sto facendo l'azione No perché Mi assicuro che Ma se parli solo tu Chi è che ti parli sopra Eh no perché forse tu Non sei in studio E non te ne accorgi Ma è una doppia voce Continua Nella traduzione Nella traduzione Sì Ma è fusato È fusato È fusato che si Anche lui È frenetico È frenetico Riccardo È frenetico Come Barella Sei il Barella Sì è vero Un po' frenetico Ultima azione del primo tempo 10 secondi Poi finirà il primo tempo Con Di Lorenzo Quarascheli A destra C'è Bastoni che va a chiudere Attenzione Di Lorenzo In aria di rigore Il cross Fermato da Mkhitaryan Può ripartire l'Inter Ma finisce qui Il primo tempo Dicevo proprio prima del gol Avevamo visto 8 tiri a 3 2 a 0 nello specchio Col gol sono 3 a 0 Nello specchio Quindi due numeri Che fotografano La superiorità dell'Inter Che merita il vantaggio Il gol di Darmian Molto bravo A chiudere al centro Su un'azione che si era sviluppata Tutta dalla parte opposta A sinistra Cross di Bastoni Gol di Darmian 1 a 0 per l'Inter E abbiamo visto anche la classifica L'Inter fa un altro passo Verso il suo ventesimo scudetto Ormai insomma Fuori discussione Da diverse settimane A questa parte Restano 16 punti di vantaggio Sul Milan Occhio al Napoli Perché Resta inchiodato A quota 44 punti In classifica E insomma Non si fanno Bellissime le cose Per la formazione di Calzona Che insomma Avrebbe bisogno di punti Per cercare di superare C'è ancora Un secondo tempo E c'è la carta Osimen Secondo me da giocare Sì però è vero Bisogna chiudere le partite In questo momento Il Napoli Ha veramente fatto Nulla Per provare A impensirire L'Inter Facciamo subito Gli up and down Michele Chi sale e chi scende L'Inter di questo primo tempo Allora Darmian Lo metto sicuramente Negli up Perché è stato Molto bravo sul gol Ma in generale Anche in altre occasioni A proporsi E quindi Gli do un bel set Così come do un bel set Anche a Bastoni Che è un abitueo Ormai Dei nostri up and down Oltre all'assist Veramente Dietro impostano Con Pavara Cerbi Scendono i centrocampisti Ma lui fa l'ala Fa il centrocampista Ed è anche spesso preciso Come in questo caso Quindi sette pure per Bastoni Di Marco forse Mettiamo Di Marco Che è stato un moto perfetto Lì Faccio un po' di mente locale Tutti gli altri In effetti Ma sì Anche Lautaro Ha fatto una bella partita Però secondo me Di Marco di più Mettiamo Di Marco Va bene Lui ha fatto quello Che doveva fare L'ha messo in mezzo Due palloni Sì no Lautaro a me Quando gioca così Che viene sempre A far partire l'azione Ad aiutare Però va bene Mettiamo Di Marco Con un bel 6 e mezzo Scusa se mi sono permesso No no Ho preso il suggerimento Ho messo Di Marco Col 6 e mezzo Mi cazza in pubblicità I down I down Ce n'è uno di down Da propor Chi è che propone C'è la Noglu No invece ti dito di no Sai perché Perché anch'io Lo stavo mettendo No ascolta No hai ragione Lo stavo suggerendo A Michele come down Ma al 46esimo Dopo l'1-0 Fa un salvataggio Sullo vodka Che vale un gol E secondo me Non è da mettere nei down Sì forse Un po' stanco Perché lui tornava Dall'infortunio Ha dovuto fare i 120 minuti Mkhitaryan forse sì Sì forse Mkhitaryan Io faccio sempre fatica A metterlo nei down Perché è tatticamente prezioso Però in effetti Ha sbagliato qualche passaggio Anche semplice per lui Quindi possiamo mettere Mkhitaryan E 5 e mezzo Non mi è piaciuto Pavard Stiamo raschiando un po' Alla fine Cialanoglu Neanche Barella A Pavard è vero dai Neanche Barella però Io però Barella moto perpetua Barella moto perpetua Io Cialanoglu 6- lo metterei Perché si è fatto un po' Perdonare con quell'azione difensiva Però nel complesso Non è proprio il Cialanoglu Dei tempi migliori Evidentemente è un po' stanco Quindi 6- a Cialanoglu Sì possiamo mettere Mkhitaryan e Pavard Pavard Possiamo mettere anche per lui Un 6- per il giallo Però la prestazione era Insomma discreta Voto di squadra Perché è in vantaggio 6 e mezzo Non ci arriva 6 più più No 6 e mezzo 6 e mezzo Ha dominato la partita 8 tiri a 3 3 a 0 nello specchio Ha segnato Ha fatto la doppia Ma sai perché ti dico 6 e mezzo 7? Perché Sommer è SV Sì perché effettivamente Poi dall'altra parte Visto Antonio Che abbiamo tanti tifosi del Napoli Che ci seguono Insomma è un Napoli Che va bene E' partito forte Il primo quarto d'ora Sì però Pavard Scusami Sommer 0-0 Sì sì no Beh certo Sì purtroppo il Napoli In fase offensiva Non ha creato tantissimo Anche se ha avuto Una palla tra ore Che a mio zero di testa Poteva essere veramente Pericolosa Quella è stata forse l'unica Però il Napoli Ripeto l'anno scorso Creava molto di più Con una grande facilità Poi Aveva un gioco varioso Un gioco sulle facce Un gioco che poi dopo C'era Carasteglia Che veniva in mezzo Con Osimè Che faceva i movimenti Si inserivano tutti gli altri C'era un gioco Che si vedeva comunque La mano dell'allenatore Ecco diciamo che forse Carasteglia Per l'attacco E Joan Jesus Perché Joan Jesus Ha di fatto salvato Lo dicevamo prima Su Lautaro Ma proprio Perché c'è anche Quell'occasione lì Dell'Inter Non solo la doppia parata Di Merette C'è anche l'intervento Di Joan Jesus Che mette in corner Sul tiro di Lautaro Io ho visto una buaianza Io a livello di intensità Non mi aspettavo È vero che magari La rabbia Voler dimostrare Diciamo che se c'era il rischio Di un contracolpo psicologico Non c'è stato Adesso il rischio È il contracolpo fisico La cosa positiva È aver fatto gol A un paio di minuti Dalla fine Che vai nello spogliatoio In vantaggio Anche perché Secondo me Nel secondo tempo Credo che ci sia Un calo fisico inevitabile Penso per l'Inter D'accordo I cambi saranno fondamentali Però è chiaro che Qualcosina A livello di ritmo Di tenuta Può esserci come calo I cambi li possiamo Abbastanza secondo me Prevedere Perché per esempio Secondo me De Valle Pavard De Monito Nelle prove Tattiche Aveva provato Sanchez con Turam Al posto di Turam E Biucanano Al posto di Marco Secondo me A metà secondo tempo Possono essere due cambi Poi come dice Riccardo Bissek per Pavard Perché la legge Dell'Amonito Colpirà anche oggi E poi i due Un po' in calo fisicamente Sono Cialanoglu e Michi Italian Anche i frattesi Aslani Scalpitano Però poi dipende Se pareggia o non pareggia Hai nominato comunque Dei cambi Che ad averci Sono titolari Quelli sono titolari Non è cosa da poco Potersi permettere Nel secondo tempo E' la cosa più importante Che diciamo Di questo campionato Che questi stanno Passeggiando Sul nostro campionato Però una squadra così Con quei ricambi Con quella cosa Con l'attenzione Ecco perché adesso Sembra veramente Volere esagerare Su questa roba Però Diventa ancora più grave Essere usciti dall'Europa Hai capito Perché avevi la possibilità Di fare i cambi Avevi una squadra Con una rosa completa Importante Avevi la testa libera Per concentrarti su quello E hai sbagliato La partita purtroppo Sì ma Gianni Ma quando giochi in Europa Con queste squadre Non è che è scontato passare Io sono d'accordo con te Quando dici Che hanno sbagliato Ma non è che adesso Ogni cinque minuti Ecco Nove tiri a quattro Tre a zero in porta Ma voi non eravate partiti così Commentiamo il primo tempo Inter Napoli Commentiamo Inter Atletico Va bene ho capito Commenteremo Inter Atletico Fino all'anno prossimo No perché adesso Voi volete ridurre No vogliamo commentare Inter Napoli La potenza dell'Inc Cioè noi A sentire lo stesso Vostro allenatore Gli toglierei lo scudetto Vabbè però se parli Sempre solo tu Hai sempre ragione No parlo sempre solo io Ascoltare il vostro allenatore Inter talmente straordinario Quattro volte passa Però non è matematico Allora io posso dire una boiata L'Inter in Napoli Detto questo adesso Adesso dico una boiata lo so Però è un po' che la penso La partita di mercoledì La partita di mercoledì Nella testa dei giocatori Perché dite Abbiamo sbagliato partite È vero Perché non è stata la solita Inter Secondo me è stata Anche un input Quando tu senti Tutto l'anno Dire L'obiettivo è la seconda stella L'obiettivo è la seconda stella Per quattro partite in Champions League Fa turnover in Zaghi Quello è vero Ok Nella testa del giocatore Può scattare Lì potete dire No però lì con l'Atletico Riccardo volevano vincere Sì certo Però non dimentichiamo Che in Zaghi Quest'anno ha fatto turnover in Champions Ha delle belle responsabilità in Zaghi Forse fare turnover settimana scorsa a Bologna Era legittimo Per preparare meglio La partita Anche perché è vero E se non vai di testa In quelle partite Anche se sei in forma Ma l'ha fatto il turnover a Bologna A Bologna l'ha fatto Un minimo di turnover l'ha fatto Ma molto meno che minimo Marcello Ma molto meno che minimo Marcello Però l'ha fatto Marcello Puoi essere Atleticamente pronto Puoi essere in superforma Ma in quelle partite in Champions Se non ci metti la testa Non la vinci mai Però lì Attenzione Questo è un ruolo dell'allenatore Che deve portare alla determinazione La concentrazione Ma invece secondo me È tutto fuori che all'allenatore Quella partita Perché io me la prendo Con Pavard Che fai lisce E tu ram Che non segna davanti alla porta Tu hai avuto le occasioni clamorose Che allenatore Arnautovi ci segnavo pure io L'approccio alla partita Le motivazioni e tutto Te le deve dare l'allenatore Non un altro Però ascolta una cosa Tu non devi fare come Inzaghi Perché Inzaghi Quando viene in conferenza stampa A parlare con voi Sempre magnifica Quello che fa la sua squadra E riduce sempre al minimo Quello che fanno gli altri Tu hai avuto quelle occasioni lì Ed è vero Ed è vero Ma loro hanno avuto Delle azioni clamorose Ricordiamoci solo il palo Ricordiamoci Cosa fa il Kelman La 94 Ma non c'entra niente E valgono come le vostre Non è che gli altri Totale Marcello Sono dati aritmetica Expected goals All'andata 2 a 0 Inter 0 ti rimporta l'atletico Al ritorno 2 a 1 atletico Il totale L'Inter ha creato più pallegolli In 210 minuti Voi divete di statistiche Le statistiche ti inchiodano Perché sono dati oggettivi L'Inter ha creato di più dell'atletico In 210 minuti L'atletico ha meritato di passare Perché la devi buttare dentro E se sbagli È colpa tua Ma non dell'allenatore Le statistiche non ti fanno passare il turno Ho detto che ha meritato l'atletico Perché la devi buttare dentro Ma voi state dando colpe a Inzaghi Che ha creato un gioco Che ha messo I giocatori da soli davanti alla porta Ti chiedo scusa Perché Inzaghi non ha colpe Su questa cosa Sicuramente non è il primo Il secondo e il terzo colpevolo Solo la squadra dei giocatori Le motivazioni L'approccio alla partita Ma la motivazione Ma perché Duram davanti alla porta Vuole sbagliare La motivazione ce l'ha per segnare Prendi in esami tutta la partita È tutta Pavar che lisce È colpa di Inzaghi Campione del mondo Gianni hai ragione Se per voi è posto Prendi però Esamina l'andata e il ritorno Quante occasioni si è mangiata All'Inter Tornata e il ritorno Ho l'ha appena detto Ma devi metterla dentro Non è colpa di Inzaghi Ma chi ha perso Il finale con Borussia Dortmund Oh la Juventus Perde una finale di Champions League Col Borussia Dortmund Stragiocando quella finale Creando occasioni Pali Cioè gol annullati Rigorica Di tutto e di più Io ero con la partita Quelli fanno tre tiri E fanno tre gol Alla fine portano a casa la colpa Vuol dire che la colpa Non fu di Lippi in quella partita Chi si ricorda delle statistiche Chi se le ricorda No però se tu vai a analizzare Non devi dare la colpa a Lippi Se ha creato dieci palle gol A Juve in finale Devi dare a chi ha sbagliato il gol Ma io credo una cosa Sbagliavamo Che l'Inter in questi ultimi Due o tre anni Ha la rosa più forte In Italia Degli altri E quest'anno Finalmente vince uno scudetto In Europa Ha fatto benissimo L'anno scorso Ricordo anche la partita Contro il Manchester City In finale Che è stata veramente Una partita di grande livello Da parte dell'Inter Che non meritava Assolutamente di perdere E quest'anno È uscita agli ottavi Quindi quest'anno L'Inter è cresciuta in Italia Ed era una cosa comunque Che ci teneva E ha fatto bene In Europa Inutile negarlo È una grande delusione Io sono d'accordo Che è una delusione Però Antonio Prima di Inzaghi L'Inter non arrivava Manco agli ottavi Con Inzaghi Sono tre anni consecutivi Che ci arriva Io ho fatto una piccola analisi Delle due anni Dove comunque Quest'anno vince il campionato Tra l'altro Hai anche la colpa Di non aver vinto Vincere il campionato Non è facile Hai anche la colpa In Europa Di non aver vinto Il girone Che potevi vincere E se è arrivato il secondo Ti è toccata L'atletico Perché cambiava Nel girone Quando ti dico Che il girone del 1000 È più difficile Perché hai la colpa Di non essere arrivato Primo in campionato Dici che non vale Qua invece vale Ti dovevo la parola Marcello Prima di rituffarci Sulla cronaca Niente di che Era soltanto Che per loro Lo dicevamo adesso Anche nella pausa Cioè loro Michele è abusato Ce la stanno facendo passare Come un trionfo Questa cosa Dell'eliminazione agli ottavi Quasi quasi Ci stanno convincendo Meglio uscire agli ottavi Che in semifinale O perdere una finale Ma chi mi dice Stas Ma perché ti facci passare Per pirla Scusa Non ho capito Ma perché siete dei pirla Ah pure Lo siete Non abbiamo mai detto Che io ci sto dicendo Che sto rosicando Ma come fai a dire Che è meglio uscire Agli ottavi Che in semifinale Ma che frase Poi ti dico i dati E dici No ma chi se le ricorda I dati fa niente Quello state facendo capire Quello state facendo capire Ma come ha detto Giustamente Scusa Antonio Ha detto Una cosa giustissima Per come abbiamo visto L'Inter Tutti noi Tutti noi Che non tifiamo Inter Comunque non eravamo Preparati L'eliminazione Hai visto che Riteniamo una grande delusione È stata una delusione Tu hai festeggiato Che delusione L'hai pure detto Per voi è un frionfo No per te è stato un frionfo Hai festeggiato Adesso è una grande delusione Per te Parliamo da giornalisti Ah allora parliamo da giornalisti La maglia E parliamo da giornalisti Da giornalisti Francamente Per come io Avevo visto l'Inter Fino alla partita prima Con l'Atletico Madrid Ho detto Secondo me L'Inter Per me vince pure Tant'è vero Che è passata anche in vantaggio A Madrid È questo che io non riesco a capire Come faccio una squadra Che va sul 2-0 aggregato A non portarsi a casa L'Atletico Nelle ultime L'Atletico Nelle ultime 30 partite Aveva perso una volta In Coppa del Re Non è facile A Madrid Con l'Atletico Non è facile Partiamo da questo presupposto Tu vivi di statistiche No ma ho capito Ma le statistiche Se le sai leggere Ti danno Dei dati Certi Da cui partire Nell'analisi Se l'Atletico Madrid Negli ultimi anni Non perde in casa Ci sarà Una difficoltà Da andare a vincere Quindi tu ti aspettavi Che l'Inter Passeggiasse a Madrid Nel mondo reale L'Inter non passeggia mai A Madrid Non deve sbagliare Ha sbagliato troppo In difesa e in attacco E quindi esce Se sbaglia Lui al mattino si alza Stai cadendo Il cappuccino e gli algoritmi Vivono di algoritmi Questi capisci C'è Internappoli Grazie Ma no gli algoritmi Vivi tu di algoritmi Scusa Avete cacciato Maldini Per mettere gli algoritmi Sulla poltrona Tu sei algoritman Algoritman Ecco a proposito di numeri 71.551 Gli spettatori stasera a San Siro Perché non sono 73 Perché nel settore ospiti Ce ne sono solo 881 Ma ricordiamo anche Che è vietato Per i residenti Per i residenti In campagna Intanto E cosa ti fanno vincere I 72.000 Cosa ti fanno vincere 80 milioni di incasso Il doppio di quello Che incassa la Juve Con lo stadio di proprietà Questo Questo è un dato importante Intanto agli ottavi Intanto agli ottavi Di cento Ho capito Ma non deve essere Ma l'incasso Ti fa vincere Scusa Credo che anche il giorno Del ventesimo scudetto Marcello dirà Sì però Siete uscite E infatti Attenzione L'Inter ora in avanti Con Mkhitaryan per Lautaro Lautaro sul destro Il tiro di Lautaro La respinta di Meret Primo minuto e mezzo Primo squillo dell'Inter Nel secondo tempo Con Lautaro Che ancora cerca di andare In mezzo a due Ma lo fermano E ora la respinta E il rinvio Della difesa del Napoli Con l'Inter Che però recupera Palla ancora molto alta Con Bissec Che è entrato Come previsto Al posto di Pavara Monito Bissec che accelera Se l'allunga però Un po' troppo E quindi Gli tolgono il pallone E il Napoli Ora può ripartire Sulla sinistra Dove non c'è Bissec Allora deve chiudere A Cerbi Ma il lancio È troppo lungo Per Quaraschelia Palla in fallo laterale Sembra partito Come nel primo tempo A ritmi altissimi Il match Con ora rivediamo L'occasione di Lautaro Che difende La posizione Dal ritorno di Lobotka Che poi va a terra Un po' Ma ha ricordato l'andata Ritmi altissimi Ritmi altissimi Ritmi alti Per l'Inter Ma sta Napoli Che sta facendo Sta Napoli Che sta facendo È veramente Un Napoli Che a me non piace Come dicevamo prima Il Napoli dello Scudetto Era un'altra cosa Era un avversario Di tutta un'altra caratura Questo è un Napoli Normalissimo Abbordabilissimo Da una squadra più forte Perché l'Inter è più forte Chiaramente domina Io vedo parare solo Beret Sommer non lo vedo mai L'ho visto impegnato A Madrid Sommer Sommer l'ho visto impegnato Molto a Madrid Qui no È sicuro che il Napoli Non è quello dello Scudetto Altrimenti non cambiava Tre allenatori Sono diversi mesi Ci siamo accorti Che non è più lo stesso Napoli È questo evidente No ma siccome lui dice Altissi Aritti Sta giocando l'Inter Marcello perdonami Parlando sempre da giornalisti Non era scontato Che l'Inter facesse una parola del genere No per niente Bastoni di Marco Ancora l'asse di sinistra Che funziona Il cross di Bastoni Per Lautaro di testa Che la fa scorrere in qualche modo Bissec Che ci arriva Un attimo prima Allora l'Inter Tiene il possesso Al limite dell'aria Siamo passati da sinistra a destra E ora per vie centrali Ci prova Cerby e Cialanoglu Cialanoglu va ancora Sulla destra per Darmian Darmian per Bissec No Arriva la palla Turam Che sparacchia alto Sopra la traversa Vedi che c'ha questa cosa Che non sa colpire forte di collo Noi ci teniamo Turam Però deve migliorare A colpire di collo forte Secondo me Beh questa se l'ha un po' mangiata Antonio Che dici? Sì l'errore c'è stato Però non era facile Calciare da quella posizione E far gol Perché comunque Deve riuscirti Un tiro del genere Però quantomeno C'entrai la porta Io dico che Turam Comunque quest'anno È il primo anno che in Italia Sta facendo bene Molto bene Diciamo che Nessuno si aspettava Un rendimento così Esatto Quando hai mollato Lucaco e Dzeko Per prendere Turam da mettere in coppia Con Lautaro Tutti quanti Vedevano un'Inter più debole E lì il merito Della dirigenza Che ha lasciato andare Dei giocatori Diciamo famosi E prende un ragazzo Da fuori Che era sicuramente valido A parametro zero Scusa Antonio Ancora recupero alto Della palla di Mkhitaryan Per Barella Ora però hanno Perso l'attimo Forse Barella Per andare a puntare L'aria di rigore Sono tornati Io l'avevo visto Io l'avevo visto Turam col Borussia Ancora bellissima azione Mkhitaryan Bastoni Ah Qua non riesce A portarsela avanti Perché se no Sarebbe entrato da solo In aria Aveva tutto il campo Ma la palla Gli si è fermata Un po' sotto il piede Si rammarica molto Infatti Bastoni Rimessa comunque Per l'Inter in attacco Chirico Puoi parlare adesso Perché non ti fa parlare Vai Mai Mai Sempre so Vai Prima che l'Inter attacca Di nuovo No volevo dire Volevo dire Che Al Borussia L'avevo visto Però non mi aveva rapito L'occhio Come Lo ha fatto in Serie A Quando è arrivato in Serie A È stato veramente Dirompente Non me lo immaginavo così Per come l'avevo visto Al Borussia Probabilmente Perché la Bundesliga È a un livello Forse superiore A quello della Serie A Qui è più sciolto Qui si crea più occasioni Qui riesce a fare Delle cose Che io lì Non gli vedevo fare Un po' Marcello E questo Dico pure lui Gli va dato atto E un po' anche In una squadra Che gioca molto meglio A me piace moltissimo A me piace moltissimo Sì sì Ma infatti Io gli sto trovando Un difetto Gli sto trovando un difetto Perché vedo Un potenziale Ancora superiore A quello che abbiamo visto Fino a Di Marco Attenzione Il calcio d'angolo L'Otaro Di testa Palla che attraversa Tutta l'area di rigore Esce dall'altra parte Ma ripeto Gliel'ha detto pure Deschamps Su questa cosa Di essere più cattivo in aria Di colpire Davvero numero 9 Sai Michele Cosa si diceva di Turan Turan era un ottimo giocatore Però si paragonava Al fatto Che mancava Cioè non era un uomo gol Esatto Ed è ancora così Ha fatto 10 gol Più uomo assist Ha fatto più assist Che gol Il paradosso del calcio Qual è? Che se ti rimani Lukaku Tu avevi già preso Turan Turan non esplode così La palla Ah no no Secondo me È proprio un input Di dire Cerchiamo di fare il secondo Perché dopo Arriveranno i problemi fisici Esatto Anche secondo me È un po' quella la lettura E ci saranno sicuramente I soliti cambi Ora Traore che fa una bella azione È Barella che da dietro Qua va a guadagnarsi Il cartellino giallo Perché prende il giocatore Gli chiede subito scusa Cartellino giallo E adesso che ha preso L'ammunizione Come la mettiamo Con quel fallo E cartellino Non fa sto fallo Se ha munito Dai Gianni Non fa sto fallo Se ha munito Sì però Forse lo toglie nell'intervallo Forse lo toglie nell'intervallo Dai non attacchiamoci a tutto Però Io dico che questo Era un fallo Giustamente da giallo Come lo era Quell'altro Quindi molto probabilmente Se veniva munito Nel primo tempo Non faceva un'entrata così Lo toglieva Ma vabbè Quella è un'ipotesi Che dici tu Ma la realtà è che Dove avere già un cartellino giallo Allora qui doveva essere in dieci Ha ragione Solaroli No Non ha ragione Solaroli No Ha ragione Perché sono due gialli Questi Questi sono due falli da giallo Quello di prima E quindi L'inter doveva essere in dieci E anche stasera la zanfata Dai Io voglio dire questo Siccome abbiamo detto Che è un gioco aggressivo Fa parte del suo carattere Il suo modo di giocare A Barella Ha questo Motto perpetuo E che lo In tante occasioni Lo porta a fare fanno Ma hai visto che Pavare è stato sostituito o no? Pavare è stato sostituito Michele fammi però dire una parola Pavare è stato sostituito Non puoi far finire le persone Quando parlano Però scusami Ma scusa Ma prima mi hai parlato Mentre c'era l'azione importante Adesso mi rifacci che io interrompo Posso finire Michele? Posso finire? Si Barella deve essere espulso Hai ragione? No Se tu al quinto del primo tempo Prendi un'ammunizione Sei condizionato per tutta la partita Soprattutto All'Inter si usa la sostituzione Agli ammoniti E' una regola E allora Non giocava a Barella Si giocava a Frattesi Che ha fatto più gol di Barella C'hai ragione Certo che c'ho ragione Incredibile Sono dei muri di gomma Marcello Una roba incredibile Una roba assurda Attaccarsi a quel giallo La serata di Internappoli Si parla a metà dell'Atletico Madrid E a metà si parla di Barella Che deve essere espulso Nella loro mente Cioè noi parliamo sempre Di cose piccole Tutto quello che succede Sono cose insignificate Non c'è contro prova In tutto questo è arrivata la notizia Che dopo dieci minuti Del secondo tempo Cioè dopo quasi un'ora di gioco Sommer fa la prima parata Chiamiamola così Un grosso Chiamiamola così insomma Per modo di dire Parata ovviamente Ora è il Napoli che ci prova Se vuoi Gianni Prosegui tu Perché sennò dici che ti interrompo No Scusami Stavo facendo un ragionamento Un ragionamento assurdo Ridicolo Ridicolo E lascialo parlare Scusa Permetti che non è un discorso ridicolo Quello che ho detto Ho fatto una considerazione Ti ho detto Che un giocatore Che merita il giallo Eravamo d'accordo Tu per primo Che non lo prende Un giocatore al quinto minuto Che ha 85 minuti davanti Per giocare con un cartellino Sulle spalle Credo che sia una cosa Da considerare Tant'è che lui gioca lo stesso E prende un altro cartellino giallo Non l'avrebbe preso E qua che casca la ragionamento Ma chi te l'ha detto Perché lo toglie A fine di notte È il gioco di Barella Ha tolto tutti i gamoni Ma è incredibile Però ci stiamo veramente attaccando Non c'è la controprova Tu non puoi fare un film Non c'è la controprova Che non avrebbe fatto il fallo Ma secondo te Non c'è la controprova Gianni Primo può cambiarlo Secondo Non fa un intervento del Genese Cambia tutto Cambia tutto Il Napoli merita di vincere 6-0 Stasera Così sei contento Ma non è vero Ma non stiamo parlando del Napoli I bambini È una roba che io non sento Da nessuna parte Sti ragionamento Solo qua Non girarla come vuoi tu Non girarla come vuoi tu Allora Noi non stiamo dicendo L'Inter sta meritando di vincere Perché sta facendo la partita Quindi merita di vincere Però in questo momento Poteva anche trovarsi in dieci uomini E non è vero Ma non è vero È un falso È strafalso Perché Barella ha volito Primo non fa la scivolata Il secondo viene sospituito Ma siete un po' più obiettivi Siete anche più credibili Se siete più obiettivi Siete più credibili Siete più credibili Se siete un po' più Leggermente Tanto non cambia niente La gente che non vede la partita Tu non puoi dire Che l'Inter meritava Sai qual è il mio errore Che io voglio di approfondire Lui sta dicendo Se l'Inter meritava Caccio d'angolo per il Napoli Alla destra di Sommer Palla che spiove in aria Racquani anticipato Vai ma siamo full Alla follia E c'è ora Barella Dall'altra parte Che fa ripartire l'azione con Darmian Che ha tutto lo spazio Ma deve cercare di mettere La palla a terra Poi alla fine lancia molto bene Di Marco Che scatta a destra Napoli un po' scoperto Di Marco prova a portarsela Su sinistro Tiene la palla in campo Ora dialoga con Mkhitaryan Che torna da Di Marco Il Napoli recupera Solo per un attimo Poi c'è ancora Cialanoglu 58 minuti Si torna indietro Napoli che ora recupera Le posizioni Quindi è sfumato un po' Questo contropiede Il pareggio del Napoli Proprio con l'ex Juan Jesus All'ottantunesimo Solo Soletto Sul secondo palo Primo gol quest'anno In Serie A Su una sponda di testa Eccolo qui l'episodio Che dicevamo Poteva in qualche modo Rimettere il Napoli in corsa Lo fa su un calcio d'angolo Distrazione difensiva Dell'Inter E il pareggio di Juan Jesus All'ottantunesimo Adesso ne mancano Sette e mezzo Più recupero Dimenticanza Della difesa dell'Inter Antonio Ma sai Sono quei gol Sul calcio d'angolo Che spizzicano Sul secondo palo Tanto spizzata di bastoni Esatto Paradossalmente Molte volte Non si riesce a intervenire In fase difensiva E quindi La palla capita in quel momento All'attaccante avversario E fa gol E adesso Altra punizione interessante Per il Napoli Sì punizione per il Napoli Io stavo rivedendo l'angolo Perché Darmiana Ha potestato molto Diceva all'assistente L'ha toccata lui per ultimo Sembrava che Darmiana Avesse anticipato Il giocatore del Napoli Quindi sembrava Angolo a occhio Però queste proteste Ripetute Ora punizione per il Napoli Palla tutti a saltare in aria Il colpo di testa fuori Oh mamma mia Bella torsione Però troppo E la palla esce Alla destra di Sommer Era 83 minuti Ora la partita L'inerzia può cambiare Perché il Napoli Abbiamo sempre detto Ha bisogno Di punti Come non mai La partita andava chiusa prima Quando rimani con una partita aperta Anche se il Napoli Non stava facendo niente di particolare Ci può essere l'episodio Il rimpallo La deviazione Qualsiasi cosa Che ti poteva Sicuramente portare A pareggio Entra Bocchino Nel posto di Darmiana C'è un auricolare Dell'arbitro Che non si capisce Cosa stia Cosa stia parlando Altro camion dell'Inter Fuori dal Darmian Dentro Non ho ancora capito Come si pronuncia Buchanan 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 È canadese Buchanan Quindi non Buchanan Come è Le rimembranze No 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 Va bene Eccolo qua No Intanto Stanno parlando Anche Come no I colleghi di questo calcio d'angolo Questo mi sembrava fallo Calcio d'angolo Che insomma farà discutere Non ovviamente Gianni Non ce l'hanno fatto rivedere bene Marcello Ma a noi farà discutere Perché comunque Un a uno Su un calcio d'angolo Insomma Vediamo Perché ci sono Ci sono dei dubbi Cioè vedremo dopo Intanto l'Inter Ora che prova ad attaccare Con Frattesi Il tiro di sinistro Il Napoli qua Ha perso una brutta palla Allora Turam recupera Uh sbaglia Ancora Buchanan Che è appena entrato Frattesi Attenzione Ancora Inter Quindi Buchanan Per Darmian Un esterno offensivo Più Più attaccante Diciamo Più ala Rispetto a Darmian Quindi si gioca L'ultima carta Il quinto cambio Inzaghi Qui Quancesus decisivo Ancora Quancesus è stato Il migliore del Napoli Ha salvato un'occasione Perché questa è un'occasione Importantissima È stato il migliore del Napoli Sia in difesa Che adesso col gol in attacco Ora lancio lungo di Sommer Troppo lungo anche per Sanchez E quindi Napoli Che può recuperare Il pallone Cinque minuti al termine Col Napoli Che ora è il possesso palla Vedremo adesso Se l'Inter ha ancora la forza Perché si stava Un po' abbassando Però ci sono tanti freschi Tipo Buchanan E Frattesi Sanchez stesso Che potrebbero Dare un'ultima Diciamo Linfa Vitale Per vincere questa partita Varaschelia Che attacca Ora sulla sinistra Punta Bissec Arriva anche Dunfris Dunfris Va a raddoppiare Allora Varaschelia Deve tornare indietro Ottantasesimo minuto Giro palla del Napoli Dall'altra parte Si va da Di Lorenzo Ora il Napoli Ci crede molto di più E va in aria di rigore Con Simeone Che si deve girare Dalla da Politano Per crossare Politano che viene Fermato in modo regolare Dice la penna Non mi sembrava Infatti l'assistente Dice fallo E Bastoni dice Ma cosa? Non è fallo Però a me sembrava fallo Questo Però adesso vedremo La penna aveva detto Di continuare Ma credo che l'assistente La penna era un po' distantino Era fallo netto Fallo tutta la vita Ed è anche giallo Pallo netto Questo è anche giallo Perché entra Maluccio Bastoni Esattamente L'ammunizione che ha preso Nel primo tempo Il giocatore del Napoli E qui devo dire Bravo Ecco stiamo rivedendo Ah ma non c'è angolo Ragazzi Non c'è il calcio d'angolo Dell'1 a 1 E questo è quello che guardavano Neanche Juve Parma Non c'è il calcio d'angolo Mettiamolo in conto Neanche Juve Parma Nel 2000 Comunque qui non c'è il calcio d'angolo Neanche Juve Parma Nel 2000 Questo non c'è Tu l'hai visto in maniera così chiara Sì Ha toccato No ma perché credo Stavo cercando di capire Credo che gli abbia fischiato il primo Non quello di Darmian Addirittura l'abbia già fischiato là Per questo c'è una grande discussione Allora qui secondo me Comunque manca un giallo a bastoni Questo si Questo manca un giallo a bastoni Che addirittura la penna Ha lasciato andare Qui è stato proprio Il segnalino Ad alzare la banderina Anche perché c'era davanti A due metri Anche perché Politano Anche da Cantellino Non solo Sì a volte dico gli arbitri Come fanno a non capire la dinamica C'è uno dolorante a terra Che non sta fingendo Politano che sbaglia completamente A calciare la punizione La palla va fuori Mamma mia che roba Che c'ha battata Che ha tirato Politano A volte veramente Non capisco Ci sono delle dinamiche Che sembrano così logiche E uno dice No Sì in effetti Antonio Questo ci stupisce sempre molto Quando vediamo Una punizione di un giocatore In serie a calciata così Purtroppo capita Nel senso è strana sta cosa Ha preso il pallone nettamente Turam però dopo È rimasto a terra Perché si è fatto male Attenzione Lobotka Che si fa a mezzo campo Poi cerca di servire Simeone Bastoni lo anticipa Riparte l'Inter con Sanchez Sì partita che si sta incattivendo Negli ultimi minuti Ora l'Inter ha tanti uomini in avanti E il Napoli è scoperto Quindi Sanchez va da Buchanan Che torna sul destro Lui a sinistra Il 17 dell'Inter Si accentra Ora subisce una lieve spinta Per l'arbitro no E quindi riparte il Napoli Con Frattesi Che per ora recupera Un grande pallone E allora Buchanan L'Inter ancora sulla tre quarti Ora tutte e due le squadre Vogliono vincere L'Inter non si accontenta E il Napoli assolutamente neanche Allora ora c'è Dunfris Sulla sinistra Vediamo se prova a crossare Il cross su Turam Sul secondo pallo Turam di testa Esce in ritardo Il portiere Questo è come quello di Firenze Napoli Ma c'è un Qui c'è una carica Fuori gioco forse Non è carica Secondo me è carica Non è carica O comunque ha fischiato Punizione per il Napoli Ha fischiato punizione per il Napoli Vediamo se è per il Sì ha fischiato il pallo a Turam Perché la prende prima Merette No Riccardo Sì la prende prima Merette Quindi Forse siamo d'accordo E poi anche noi siamo d'accordo Questo è rigore Questo è rigore Anche questo Questo è rigore Ma la palla va via? No no Prende il piede Io faccio come loro Sto facendo come loro Vedo il metaverso Tanto mi devo adeguare Rachmani già ha munito Secondo giallo era rosso Napoli Ci poteva stare rigore Antonio lì? Per me no Per te no Ha munito anche Inzaghi Ha munito in Zaghi per protesta È un finale abbastanza nervoso Quello di San Siro Non so che cosa lamentasse Inzaghi Quanto sarà il recupero? Secondo me siamo intorno ai 4 minuti Almeno perché Perché oggi Oggi per un fallo del G Per un'entrata del genere di Vlaovic Sul portiere Ha andato fallo a favore del Infatti è fallo tutta la vita Del Genoa Del Genoa Ma quando tocchi il portiere Nell'area piccola E fallo dell'attaccante Mi pare talmente banale Quell'altro dice che fa il metaverso A Firenze era rigore per la Fiorentina Sì era rigore per la Fiorentina E ce n'era anche uno prima Per l'altra C'erano i bastoni C'erano 5 C'erano 5 C'erano 2 C'erano 3 minuti Ragmani come dice Solo 3 minuti di recupero Come dicevo prima Ragmani alla fine Tocca il pallone Che cambia direzione Quindi credo che quello potesse essere Attenzione Il lancio lungo per Frattesi Troppo lungo la palla arriva a Meret Finora diciamo Credo che le proteste Possano essere Sul discorso del calcio d'angolo Però Vediamo a fine partita Adesso godiamoci Questi due minuti e mezzo Ma poi dopo la tocca d'Armiano Ma cosa dici? No Il calcio d'angolo ti se ne frega Quello che ho visto e ho sentito anche Ma no Perché poi la fine d'Armiano Tocca il pallone lì Sì Sembra Il pallone lì lo tocca Sembra però Sembra 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 Ho capito Anche a me era sembrato Però dopo Credo che l'ultimo tocco Sia stato il giocatore del Napoli Ma che addirittura L'arbitro abbia fischiato Dopo che la tocca a Bastoni Non è chiarissimo Perché la palla di fatto Esce due volte Due volte Una volta e mezzo Sembra 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 Tre minuti Addirittura quattro Credo a questo punto Tre e mezzo L'Inter è la prima volta Quest'anno che prende un gol Nell'ultimo quarto d'ora Era la prima volta Anche con l'Atletico Madrid In Coppa Magari un po' di stanchezza Che fotografa anche un po' Questo dato Ora C'è un fallo laterale In attacco per il Napoli Perché Mkhitaryan È andato a anticipare Una palla in verticale In area di rigore E la palla è uscita Per pochissimo Al di qua della bandierina Quindi non in corner Ma in fallo laterale Napoli che ora resta in attacco Non una grande partita Di Mkhitaryan No Po stanco Po stanco sì Anche c'è la Noglu Anche c'è la Noglu Come dicevamo Anche negli up and down Del primo tempo Ma si erano visti Anche già A Bologna Così come Potevate sostituirli No? No? Potevate sostituirli Non funziona Potevate sostituirli Cinque sono le sostituzioni E allora È entrato Frantesi per Parella Che era monito Attenzione Frantesi Ora Ciala Che prova a far ripartire l'Inter Che però È molto bassa In questo frangente Riesce a partire molto bene Con Frantesi Mkhitaryan è lo spazio per Dunfris Che fresco Ci sono però più maglie bianche Arriva dall'altra parte Buchanan Dunfris alza la testa Il cross per Buchanan Che prova a andare Di Lorenzo Molto bravo A chiudere lo spazio Al giocatore dell'Inter E quindi il Napoli Ora ripartire Ma Inter che resta lì Con Acerbi Recupera un buon pallone Bastoni vediamo Bravissimo Bastoni a girarsi Alimentare l'azione Con Mkhitaryan per Buchanan Vediamo se il canadese Arriva no Arriva Di Lorenzo Che fa ancora buona guardia Molto bene Di Lorenzo In questo finale Sia in avanti che dietro Con la fascia da capitano In modo orgoglioso Tiene a galla Il Napoli Anche per i famosi piazzamenti Se pareggia il Napoli Sarebbe a sei punti Dalla Roma quinta Con nove giornate Dalla fine Non è ancora Insomma Detto niente Dipende anche un po' Da questi 27 punti Ancora in palio Intanto non si gioca Recupero del recupero Di Lorenzo Finalmente si decide A mettere la palla in campo La recupera Bastoni Per Buchanan Attenzione a Cialanoglu Vai in aria Sanchez si deve girare Palombella per Frattesi Anticipato da Meret Bella l'intenzione di Sanchez Un po' troppo forte Il tocchettino sotto E quindi alla meglio Il portiere in uscita Però attenzione al Napoli In avanti Con Bissec Che sbaglia il rinvio E allora ne approfitta Lindstrom No Anticipato Cialanoglu Qui forse può arrivare il fischio Forse l'ultima azione dell'Inter Siamo a 93 E 29 E te pareva Fischia l'arbitro Con Buchanan Che sta andando verso la porta E manda a quel paese L'arbitro tre volte E quindi finisce qui 1 a 1 A San Siro Pareggio Che Diciamo Non sposta Tanto la classifica Né dell'Inter Né del Napoli Diciamo che questa settimana Sancisce una Il non percorso netto Dell'Inter Che ha perso La sua prima gara Nel 2024 In Champions League E dopo 10 vittorie consecutive Si vede fermare Questa striscia Estremamente lusinghiera Ma come insomma Come vedete dalla classifica Non cambia veramente Nulla 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 Sono 14 punti Che l'Inter ha di vantaggio Sul Milan E quindi insomma Nulla che sposti Quello che sarà un finale Che chiaramente Conosciamo ormai A memoria Un po' di polemica Partito un po' nervoso Sì Darmian sta parlando ancora adesso Col quarto uomo Perché dice Mi devi spiegare Questo calcio d'angolo Il quarto uomo Fa quasi così Come per dire Capitano Come se lo potesse sapere Il quarto uomo Cioè adesso Onestamente Il quarto uomo Fa il quarto uomo E l'ultimo Che voleva Tutta più vai dal guardaline Che è quello che magari L'ha dato Alzato lui la bandiera Se proprio proprio Ma il quarto uomo Credo che davvero Però insomma Del giocatore del giocatore del Napoli Non lo so Non lo so Va bene ragazzi Facciamo così Fermiamoci qui Due minuti Lì nella regia Al rientro Analizziamo quello che è successo In Inter Napoli Facciamo gli up and down Poi abbiamo ancora un'ora di tempo Dalle 23 alle 24 In attesa ovviamente Di passare Calzona e Inzaghi In diretta Dalla sala stampa Di San Siro Poi andiamo anche Ad analizzare Tutto quello che è successo Nella giornata Di oggi Vai Allora Io un po' resto come nel primo tempo Perché l'Inter Liga Ha fatto vedere le cose migliori Anche se abbasso un po' A bastoni di mezzo punto Perché è stato un po' sfortunato Però lui poi spizza la palla Sul calcio d'angolo E quindi Diciamo che resta Il migliore Darmian Che ha deciso Aveva segnato Ha deciso il gol dell'Inter È stato bravo anche nel secondo tempo Secondo me Ha fatto una bella partita Quindi sette per Darmian Il migliore dell'Inter Con bastoni Che scende a sei e mezzo E confermo anche Di Marco Sei e mezzo Che fino a quando è rimasto in campo Insomma una buona partita Per Federico Di Marco È andato anche al tiro Diverse volte nel secondo tempo Un po' stanca l'Inter Quindi sui down Confermo i due centrocampisti Cialanoglu Mkhitaryan Cinque e mezzo Tutti e due È una tendenza Delle ultime partite Tanto che si era pensato Anche alla vigilia Magari di far giocare Frattesi a Slani Dall'inizio E in effetti Sono parsi stanchi Soprattutto Mkhitaryan Fa impressione Vederlo non dominante Cialanoglu ha Diciamo l'attenuante Di tornare all'infortunio Quindi gli do un cinque e mezzo A tutti e due Sul terzo Ce ne sono tanti Che posso scegliere Infatti io Turam Quasi quasi glielo do Anche se stavo vedendo Adesso l'episodio Sul portiere Alla fine la palla La tocca di testa Non quella su Rachmani Quella sull'uscita alta Di Meret La palla di testa La tocca prima Turam E poi Meret La sfioricchia Per dirla Come disse Nel bar Di Fiorentina Inter Però al di là Di quell'episodio Dove arriva prima Turam Si Cerca lo spunto Ma alla fine Diciamo fumoso Ecco Perché lui ha grandi qualità Ma oggi per me è fumoso Quindi cinque e mezzo Anche per lui Quindi Turam Mkhitaryan E Cialanoglu Che sono tre Tra l'altro Tre i migliori Quest'anno E insomma Le loro qualità Servono al lì Ha tirato la carreta Tutto la stagione Però Esatto Soprattutto i centrocampisti Eccoli qua Espresi In voti Credo Comunque il pareggio Alla fine Nel secondo tempo Diciamo che ci può stare Perché l'Inter ha sprecato Se non la chiudi E ti Diciamo Esponi a queste L'Inter ha avuto soprattutto Quell'occasione di Barella Il tiro Da molto vicino E poi anche L'occasione con Turam Quella di Turam Diversi palloni in aria Però Che Napoli abbia fatto A parte il gol No però Se vai a vedere Il conto Per esempio Dei corner Che sono aumentati Adesso E no ho capito No ho capito Però se gli dai Sette possibilità Di crossare in aria Magari ci può stare Che su una palla alta L'Inter è stata un po' Imprecisa nel finale Per esempio Sommer ha regalato Qualche pallone Bissek su Quangesus Doveva essere Più attaccato Pavara Avevamo detto Ammonito nel primo tempo C'è un po' Di stanchezza Affiorata E poi ripeto Ma infatti Vedi Con l'Atletico Madrid Torna la continuità Cioè con quelle squadre lì Non puoi pensare Di avere tante occasioni L'Inter È una squadra Che spreca le occasioni E oggi anche Le ha sprecate Nonostante i 71 gol Che resta il migliore attacco Però Non è cinica Non è cinica Che è strano a dirlo Dopo questa notizia A proposito di stanchezza Anche l'Atletico Madrid Era stanco Stasera Sta perdendo 3-0 Col Barcellona in casa Ah Quindi tanto Per parlare L'idea Joe Felix Lewandowski E Lopez Gli autori di tre gol Siamo al 92 E attenzione Perché è scavalcato Dall'Atletico Bilbao Se perde Perché ha più uno L'Atletico Bilbao Che ha vinto Per cui questo è Direi che nel Napoli Quello che doveva fare L'ha fatto mercoledì Chi se ne frega Nell'Atletico Bilbao Quello che doveva fare Il lavoro Che doveva fare L'ha svolto Quindi va bene così La tua stagione è finita qua La mia stagione è finita Da più tempo Comunque Visto che A parte invertite Ci sarebbero qua I pieni Il calcio d'angolo Che causa il pareggio Non esiste E c'è rigore E c'è rigore Su Turam Perché prende prima il pallone E si è verificata La stessa cosa di Firenze Quindi la sfioricchia Non vale La deve prendere Ma non stiamo parlando Di un rigore Ma non stiamo parlando di un rigore Diciamo che l'ennesima Inter danneggiata dagli arbitri No Però stasera Vi ha detto che c'era rigore Su Turam All'andata è stata avvantaggiata Sul Napoli Al ritorno gli è andata male Negli episodi Lo possiamo dire? Il calcio d'angolo Dovevano espellere di Barella Dovevano espellere di Barella Io parlo di dati concreti Non parlo di espellere Barella Perché non esiste L'espulsione di Barella Tu non hai la controprova Tu non hai la controprova Che se viene ammonito al quinto Doveva essere ammonito Barella Doveva essere ammonito al quinto Ma non hai la controprova Per te Per te Perché per te Non esiste mai niente Tu è sempre il contrario E da tre anni Che cambia Giammonite L'intervallo Oggi non l'avrebbe cambiato Se a me non interessa Io vedo soltanto Che in studio Siamo tutti per l'espulsione di Barella No ma non può Non può passare un messaggio A parte voi due Che siete interisti Per il giallo Il vostro amico cameraman Che ci inquadra Che interista pure lui Allora lì Siete tutti e tre A favore dell'inni Ma tutti gli altri Non lo sono Quindi come vedi La maggioranza Vi dà contro Ti dico che il pareggio del Napoli È finziato da un calcio d'angolo Che non c'è E c'è rigore per l'internegato Fine Uno a uno a casa Non stiamo parlando di un rigore No stiamo parlando di un rigore Un rigore Tu potresti dire Beh ma non c'era No c'è invece Ma qui stiamo parlando di un calcio Un calcio piazzato Contro la difesa più forte del campionato C'è un rigore su Turam Ma di cosa ti lamenti Ma di cosa ti lamenti Mi sto lamentando Ma Michele ha fatto Dici l'intervento di Di Meret A prendere prima il pallone Di Meret Stiamo vedendo un'immagine Ragazzi è come Firenze Cosme Prendere prima il pallone Ma qual è l'episodio? Quello su Turam Quello su Turam Prende prima il pallone Prende Turam di testa la palla Però Non tocca a Meret Com'è? Non tocca a Meret Sant'anno Per voi non esiste Poi il regolamento Sto dicendo che Michele Prima prende la palla E Meret con i guantoni La sfiora Senza fargli cambiare direzione Non entra in contatto Con il portiere Perché lo sai che il portiere Non lo puoi toccare Anticipa il portiere Turam La prende lui prima Noi avevamo detto in cronaca Che il portiere anticipa Invece è prima Turam Ad arrivare prima sulla palla Poi dopo di questo Michele ha analizzato la partita Poi lo abbiamo detto In Napoli Oggi è stato uguale I Nouve e Genoa Hanno ammonito poi Vlau Pensa ha dato il fallo Poi Vlau C'ha protestato Poi è stato ammonito E poi è spulso Ma gli ha dato il fallo Proprio perché È stato un episodio Analogo 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 a quale? Ma per voi Ma voi a San Siro Avete il vostro regolamento Analogo a quale? Quindi per gli 80.000 Si regola Ma se Varela All'inizio della partita Abbiamo detto C'era il giallo Siamo tutti d'accordo Tu dici c'era il rosso Il giallo è il giallo Il rosso è il rosso Perché c'era il secondo C'era l'altro fallo Da dietro nel secondo tempo Quindi giallo più giallo Fa rosso Giallo più giallo Fa rosso Poi viene ammonito Cambia la partita di Varela In effetti però Marcello ci sta Che poi magari Varela Non sarebbe stato in campo Per fare il secondo fallo Conoscendo il fallo Oppure non fa un'entrata Di genere Sapendo che abbiamo niente Perché Bonfi Perché Bonfi Noi sappiamo Che è uno che non entra Capisci Sappiamo che Varela Che è uno che tiene la gamba Capisci Piuttosto che la tiene la gamba Che tu poi mi dica Magari nel primo tempo Sarebbe stato Meno irruento Perché è giallo unito Quello ci può stare Ma io Non puoi dire Che l'interno Che è stato chiaro Ho detto Un giocatore Che al quinto minuto Quarto Quello che era Prende un cartellino Un giocatore che fa Della sua Diciamo irruenza Che è un termine Forse improprio Comunque la sua aggressività Grinta Ecco Quella roba lì Che conosciamo di Varela È condizionato Sono d'accordo Ma non puoi dire Che l'interno Doveva essere in dieci Io ho detto Che se quello È un cartellino giallo Lui si ripercuote Su tutto il suo Tutto il suo primo tempo Poi se lo toglie Inzaghi È un altro discorso Ti sto dando ragione Non sarebbe stato Lo stesso Varela Ti sto dando ragione Però non puoi dire Che l'interno Doveva essere in dieci Ripeto Avrebbe potuto esserlo Avrebbe potuto Potenzialmente Avrebbe potuto essere Allora Doveva essere in nove C'era l'espulsione per Somme Sì ma tanto Ma tanto per te Non ci sono l'espulsione Non ci sono le munizioni Non c'è il dovere Non c'è niente Fai parlare Un non Ora siccome ormai È interi Uve Anche se piove Domani mattina È colpa di Marotta Chiediamo ad Antonio Comi Che ha giocato Puoi dire che la partita Può essere un po' influenzata Ma un inter in dieci Non sta né in cielo né in terra No ma io non voglio neanche Discutere su queste cose qua Diciamo che Dopo cinque minuti Barella doveva essere Ammonito Dopodiché Non so cosa poteva succedere Magari lo toglieva Poi magari lo toglieva Perché era ammonito E lo toglieva Nel secondo tempo Lo toglieva Che era molto bravo A tenere la palla Tutto quanto Magari poteva Il camion restituto Più su Turam Che su Lontaro Io ho letto subito Che avrei tolto più Turam Che comunque Sono degli episodi Che condizionano le partite E questo purtroppo Per l'Inter Gli è successo Su un calcio d'angolo Dove addirittura Il suo calciatore Bastoni Mette in gioco Spizza la palla Perché se la spizza Uno del Napoli Addirittura Poteva essere fuori gioco Ah sì certo Rachmani era Bastoni per l'ambito Posso dire un'altra cosa Posso dire un'altra cosa Che questo pareggio Mi sorprende Certo Tanto quanto L'illuminazione della Champions Perché Una partita dominata Dall'Inter Con questo modestissimo Napoli Che ti fai raggiungere Anche all'ottantesimo Francamente Non è dall'Inter Che eravamo abituati a vedere A San Silo soprattutto Che dava Quattro pera a tutti Poi va bene la stanchezza Va bene tutto quello che vuoi Però Marcello La stanchezza ti porta A perdere A pareggiare una partita Con una squadra Modesta In Napoli È una squadra modesta Dimmi oggi Quali sono gli obiettivi dell'Inter Che obiettivi ha? Al di là di quello La seconda stella La seconda stella Eh beh L'Inter Se non ha già cucito addosso L'Inter potrebbe perderne Altre quattro Vincere lo stesso Cioè ragazzi Comunque Una reazione L'Inter l'ha avuta L'ha avuta subito forte L'ha avuta Ha giocato una buona partita E purtroppo Un episodio L'ha penalizzata Poi il calo È proprio fisiologico A parte che l'Inter A febbraio Ha fatto i quattro gol In quattro partite A marzo Ha fatto 2-1 Golgeno Ha risicato A Bologna Ha sofferto tantissimo 0-1 nel secondo tempo 2-1 con l'Atletico Non fa quattro gol Da febbraio Ma la condizione Di una squadra Ideale Non dura una stagione Esatto Ma soprattutto Dopo i supplementari In Coppa Oggi ci poteva essere Un contraccolpo psicologico Ci poteva essere Un calo fisico Invece Sono partiti forte Poi a un certo punto Infatti Un po' di calo c'è stato Ma dovevi fare un altro gol Che non hai fatto Questa è l'ennesima volta Che lo diciamo I campionati si portano a casa Proprio durante una stagione E quando nel tuo periodo negativo Che ce l'hanno tutte le squadre Porti a casa i punti Riesci a portare a casa O a contenere i danni Cioè fai il pareggino Magari L'interveniva da 10 vittorie consecutive La vittoria 1-0 Quella roba lì Questo è quello che ti fa vincere un campionato Non le partite 4-0 Quando sei in forma L'interveniva da 10 vittorie consecutive Cioè prima o poi Un pareggio ci sta Certo Cioè il calcio anche quando non vinci 4-0 L'episodio Poi l'hai ottenuto Con una squadra davvero Che stasera è imbarazzante La Napoli Più 14 sul Milan Sulla Juve più 17 Più 14 sul Milan E Marcello il campionato riaperto No Più 14 sul Milan Però se tu adesso Hai un'involuzione Come quella che ha avuto la Juve Che perde dei punti Magari il Milan A prendere Per prendere dei punti E tu non lo sai Ci sono 27 punti a disposizione C'è il derby di ritorno C'è il derby di ritorno Ma solo ci sono 27 punti a disposizione Il derby è tre giorni dopo Roma e Milan Ma non importa L'ha detto anche Pioli oggi L'obbiettivo per il Milan Ovviamente l'Europa League Arriva quanto mai Allora Arriva quanto mai Al nostro favore La pausa per le nazionali Io dico che secondo me L'Inter ormai ha già vinto il campionato E lo stravincerà Sicuro Di sicuro Diciamo che questo Non stiamo dicendo Da qualche settimana Stiamo facendo fantacalcio Stiamo facendo La natale Anche prima Il fatto è che adesso C'è un calo dell'Inter E stasera Io mi aspettavo Che comunque Proprio dopo l'uscita Dalla Champions Stasera si vincesse Che l'Inter vincesse tranquillo Contro questo Napoli Perché il Napoli è poca cosa Questo Napoli Che è poca cosa È riuscito a fare 1-1 A San Siro Comunque se siamo A più 14 Ancora dopo la prossima giornata Allora ti do ragione Vediamo la prossima giornata Che secondo me è decisiva Perché il Milan Va a Roma con la Lazio E c'è l'Inter Empoli Milan va a Fiorentina Milan va a Fiorentina Ma Juve con la Lazio C'è Juve Lazio E Inter Empoli Se siete ancora Seriosi e tanti punti ancora Magari salta i zaghi Siccome qua non si vede più sé Ma quando Sul quando Il più 16 Significava poterlo vincere Nel derby Quindi è vero che tu Magari se sei a più 13 Vinci col Mila quel giorno E vai più 16 uguale Però oggi Pioli L'ha detto chiaramente Ma è la scoperta L'acqua calda Cioè il Milan Tra vincere con un moto D'orgoglio Il derby E dare tutta la vita A Roma Se la partita È ancora aperta Al ritorno Conta molto di più Il ritorno dei quarti di finale Tanto le motivazioni Del derby Comunque vanno da sé Perché quando ne hai persi 5 di seguito Credo che quella partita In casa Davanti ai tuoi tifosi Al di là dell'Europa League E mica Europa League Tu abbia qualcosa Penso Poi magari Invece vanno in campo A fare la passeggiata Ma non credo Va bene Ciao mister Ciao buonasera Il bilancio Arrivati a questa nuova Sosta del campionato E volevo anche chiederti A che punto vi sentite Verso il vero obiettivo Stagionale In questo momento Beh chiaramente Facendo un'analisi Dall'inizio Dall'inizio dell'anno Abbiamo fatto Un grandissimo percorso Adesso per quanto riguarda Il campionato Lo sappiamo Abbiamo 14 punti Di vantaggio A nove partite Dalla fine Quindi 27 punti Uno scontro diretto Quindi dovremo ancora Cercare di lavorare Nel migliore dei modi Per quanto riguarda Stasera È normale che C'è un po' di delusione Perché Volevamo questa vittoria Per noi Per i nostri tifosi Insomma per l'accoglienza Che Che ci hanno fatto E poi per quello Che hanno fatto i ragazzi Perché abbiamo fatto 70 minuti Nel migliore dei modi Poi gli ultimi 20 minuti Un po' di stanchezza Chiaramente C'era Ma Abbiamo perso Un pochettino Le distanze Ma non abbiamo Concesso nulla A Napoli Se non Quel calcio d'angolo Con palla nostra E quella Disattenzione Sulla marcatura Prego Gazzetta dello Sport Ciao Simone Volevo chiederti Se c'era Un Se c'è Un'analogia Secondo te Tra questa partita E quella Contro il Genoa Dal punto di vista Soprattutto della condizione fisica Cioè se c'era Un po' di stanchezza Che arrivava da prima E che Vi siete portati Poi Fino a qui Grandissimi Ragazzi Ho fatto i complimenti Perché Arrivamo da 120 minuti E non sembrava Avevamo di fronte I campioni d'Italia Che probabilmente Voleva vincere Come l'Atletico Madrid Mercoledì E non abbiamo Concesso nulla Quindi Hanno fatto una Grandissima partita Di attenzione Chiaramente Volevamo Vincere L'undicesima partita In fila Però non ce l'abbiamo Fatta E quindi C'è un pochettino Di delusione Soprattutto per Per i nostri tifosi Per l'accoglienza Però insomma Questo è il calcio Come Successo mercoledì Chiaramente Dove non eravamo contenti Però abbiamo analizzato Questi tre giorni Abbiamo cercato Di imparare Anche da mercoledì E lo faremo anche Quando rientreranno I sedici nazionali Per questa partita Prego Lì in mezzo In mezzo Quarta fila Quarta fila Grazie mille Scusate Sì Una sera Simone Paoluzzi Di L'Equipe Una domanda Sui francesi Perché Pavard Fuori in intervallo Se per la munizione O se c'è dell'altro E come vedi Giovanna Quando è tornato Nel Fortunio Perché mi sembra Forse il Touram Meno incisivo Dalla stagione No siamo Sono e siamo Molto contenti Sia di Touram Che di Pavard Pavard stasera Stava facendo benissimo Però chiaramente Aveva preso Una munizione Veniva dai 120 minuti Della partita Con l'Atletico E C'era Il Georgiano Da quella parte Quindi Avevo paura Che potesse incappare In un'altra munizione Se no non sarebbe mai uscito Perché Stava facendo molto bene Touram Secondo me Ha fatto Ha fatto un'ottima partita Ha attaccato la profondità Ha tenuto la palla Ha sfiorato il gol Almeno in un paio di circostanze Quindi Siamo molti soddisfatti Devono continuare A lavorare così Tutto Margato Web In prima fila Buonasera Ministro Ciao Ovviamente Si è leggermente accorciato Il vantaggio sul Milan Però si resta Nell'ottica Del possibile Scudetto in faccia Se non so Se si può chiamare così È un calcolo Che state facendo Vi piacerebbe Assolutamente no Noi stiamo facendo Nessun calcolo Noi stiamo tenendo alta La concentrazione Cerchiamo Di lavorare Su Sugli errori Che Che commettiamo Noi non facciamo Nessuna Tabella Nessuna Bisogna solo rimanere Molto molto Concentrati Perché Tutte le partite Nascondono Grandissime insidie Grazie